Torna a protestare contro la recentissima apertura del centro permanente per i rimpatri dei migranti a Gradisca di Sonzo il comitato No CPR No Frontiere Friuli Venezia Giulia. Sabato 11 gennaio l'Assemblea promuove una manifestazione con partenza alle 14 dall'incrocio tra via Aquileia e la strada 305 nel paese Isontino. La protesta è rivolta contro l'apertura di quella che viene definita una vera e propria galera etnica e i manifestanti intendono portare la propria solidarietà alle persone che vi sono rinchiuse. Il fatto che già a pochi giorni dall'apertura, scrive in una nota il comitato, si siano verificati atti di autolesionismo tra i reclusi, mette in luce la comprensibile disperazione che coglie chi è privato della libertà con un atto amministrativo, senza passare per il giudizio di un tribunale, senza poter esercitare il diritto a una difesa legale, spesso per la sola ragione di aver perso il lavoro e non poter così rinnovare il permesso di soggiorno. Il rafforzamento dei dispositivi di contenimento, prosegue la nota, testimonia come le stesse autorità siano consapevoli dell'inaccettabilità di poter essere detenuti per sei mesi in un simile luogo e si preparino all'inevitabile ribellione dei reclusi. Una situazione, ricorda il comitato, che si è già verificata con il precedente CIE e che ha portato alla morte di un migrante nel 2013.